Iniziare a parlare, assumersi le proprie responsabilità, dovete provare ad uscire. Non ci sono, vi è riuscita, è idiota. Andiamo con gli aggettivi. Niente si conquista senza la pazienza. Questa frase non mi dice un caso, la cosa che mi ha detto. Niente si conquista senza la pazienza. Dovresti cominciare ad amarti e ad amare il prossimo. Cioè? Facevi un lavoro che adoravi, uno sport che ti piaceva, frequentare una situazione che sicurava di questi interessi, che ti faceva crescere come persona? Ma che vita sociale avevi? Dove ti esprimevi? Possibile che ti gratifica solo truccare i morti? Sembri un pretermissione su questa terra, anche io la mia. Non lo sarebbe. Renderli belli, orgogliosi per il loro ultimo viaggio. Se in vita non pianto tanto, io gli regalo l'ultima possibilità. in modo per sbattere in faccia l'ultimo sorriso a coloro che mi hanno tanto... A coloro che mi hanno reso il possibile la vita. Non è stato facile per te vivere senza genitori. Non riesco neanche ad immaginarle le difficoltà che incontra un bambino... Maio, che te ne frega! Io voglio, io voglio vedere. E tu? Io voglio quello che vuole lui. Mio padre aveva gli occhi sbarrati, che guardavano a terra nel cuore. Fermi tu, nel suolo. Ma possiate me lo ricordare tutto?